Buon pomeriggio a tutti, anche per me è importante ringraziare per l'invito, soprattutto per riconoscere il positivo lavoro che avete fatto che dovrebbe essere moltiplicato perché il senso critico si sta andando impoverendo e in questi momenti sicuramente sono in grado di rinfocolare la ragione. Dunque la chiacchierata di oggi pomeriggio appunto prevede questi tre concetti, la specie però dovrebbe essere vista come il focus delle altre due perché non ci sfugge il fatto che è proprio la specie con i comportamenti che sta in realtà creando pandemie e di questo se ne è abbastanza discusso e ovviamente sta modificando quel clima da quale sappiamo benissimo ha degli effetti di ritorno che sono veramente preoccupanti di cui di fatto si comincia a parlare sempre di più. Io vorrei farvi vedere un'immagine che ricorre frequentemente in parecchi siti. È un diagramma che è stato pubblicato insieme a uno studio nel 2009, quindi sicuramente le cose sono cambiate e certamente sono cambiate in peggio. È uno studio fatto da pare 29 studiosi dell'ambiente e del clima che hanno messo in evidenza come vi siano dei limiti planetari. Loro hanno individuato nuove limiti e hanno cercato di rappresentare l'impatto umano su questi limiti con questo diagramma. Ora vedete che c'è un cerchio verde e un cerchio rosso. Secondo i ricercatori questo cerchio verde non avrebbe dovuto essere superato. Non è chiaro se rimanendo all'interno del cerchio verde in qualche modo le problematiche potrebbero stabilizzarsi. Probabilmente non è così per il banalissimo principio della termodinamica del secondo che in qualche modo comporta un ulteriore degrado dei sistemi man mano che questi vengono utilizzati. Però noi possiamo immaginare insomma che quel cerchio verde rappresenti il limite di contenimento delle pratiche umane e che però non debba essere superato. Invece vediamo che tutta una serie di questi parametri, la perdita della biodiversità per esempio, l'uso, la rottura dei cicli dell'azoto e del fosforo e anche altri insomma in qualche modo hanno non solo raggiunto, superato la zona verde, non solo hanno raggiunto la zona rossa ma addirittura l'hanno superata. Vedete che ci sono due settori e mezzo che non sono stati diciamo così, non sono stati definiti. Questo per un motivo molto semplice perché i modelli teorici per comprendere se l'inquinamento chimico, per dirne una di tre, è raggiunto dei livelli che possano poi determinare un feedback terribile nella vita umana. Quindi alcune cose sicuramente ancora ci sfuggono ma in dubbio se pensiamo alle decine di migliaia di composti chimici che vengono regolarmente messi in circolazione nell'arco di un anno è evidente che questa massa di sostanze spesso velenose o xenobiotiche un impatto notevole sull'ambiente, sulle nostre condizioni di vita avranno senz'altro. Ecco guardate anche la perdita della biodiversità ha raggiunto dei livelli veramente mostruosi e dal punto di vista funzionale però gli esperti non si sono non si sono espressi. Perché non si sono espressi? Perché effettivamente anche da questo punto di vista non si riesce a capire se la perdita di una specie ha dei riflessi funzionali negativi sulla specie umana oppure no. Però direi che comunque basta soltanto immaginare cosa significa fare sparire la vita della pianeta per lasciare soltanto noi se sia una cosa che è accettabile sia da un punto di vista funzionale e sia da un punto di vista etico. Allora c'è da chiedersi come è possibile che una specie abbia prodotto una cosa di questo genere? Le specie che si sono succedute nel percorso filogenetico del pianeta sono milioni, non ce n'è mai stata una che sia stata in grado di fare una cosa del genere. Quindi c'è da chiedersi come è possibile che una specie riesca appunto sia a distruggere l'ambiente con effetti di ritorno diciamo sulla salute ma non solo, con effetti di ritorno anche dal punto di vista politico e da un punto di vista sociale perché è evidente che nel momento in cui le risorse diventassero scarse tutte quelle problematiche che attualmente diciamo così animano e guidano la geopolitica diventerebbero moltiplicate per x. Voi potete immaginarvi con tutti i personaggi che attualmente occupano i posti importanti nello scacchiere mondiale nel caso di crollo di risorse o di collasso ambientale potete immaginarvi quello che potrebbe succedere. Va bene, allora perché la specie umana è caratterizzata diciamo da questo fervore distruttivo? Ma io ritengo che se eliminiamo tutti gli aspetti secondari, terziari o quaternari poi alla fine arriviamo a due conclusioni o meglio arriviamo a identificare due aspetti sicuramente fondamentali e probabilmente proprio centrali che ci spiegano molto. Il primo è di natura prettamente culturale, è quella cosa che si chiama antropocentrismo e di cui abbiamo sentito parlare anche prima, nominato dal nostro esperto. Il secondo invece ha una natura più propriamente biologica e praticamente si tratta del potenziale logico, simbolico linguistico di cui l'essere umano è dotato. Allora analizziamoli brevemente. Allora l'effetto culturale, cioè l'antropocentrismo che molto più dolcemente spesso assume il termine umanismo ha tinto come di una concezione quasi disincarnata all'essere umano. A testimonianza di questa tendenza disincarnarci ci sono tutta una serie di dualismi che conosciamo bene. Il primo dualismo è mente-corpo e non ci sarebbe niente poi di strano in questo o di pericoloso se non che la mente non venisse considerata l'aspetto principale del corpo secondario. Qui c'è veramente una frattura diciamo nel pensiero umano che ha determinato l'imbocco di una strada devastante. Cioè la mente in qualche modo è connessa con lo spirito, l'anima, dipende un pochino da quelli che sono i riferimenti religiosi o arcaici che hanno dato via questo processo. E voi sapete per esempio che la religione cattolica considerava, o almeno considerava nelle sue forme più passate, il corpo come una cosa degradante mentre invece lo spirito, l'anima, quella cosa che poi diventa eterna e raggiunge la perfezione. Ma il bello è che successivamente anche l'uomo laico, anche ateo, l'uomo moderno ha accettato questa separazione. Se pensiamo a come noi concepiamo noi stessi ci rendiamo conto che sì, adesso forse come singoli ci consideriamo esseri che si estinguono ma la nostra specie è qualche cosa destinata ad avere un luminosissimo futuro. Noi ci proietteremo nei pianeti, noi scopriremo le leggi del cosmo e così via. E quindi questa ossessione disincarnata di vederci come qualcosa che non appartiene al resto della natura sicuramente ha incominciato a separarci, apparentemente a separarci e a considerarci qualcosa che è ontologicamente diverso da tutto il resto. Così che la natura è diventata semplicemente un serbatoio a cui attingere senza alcun problema, perché si tratta di bruta materia. E se andiamo a vedere c'è un trasferimento di questa visione distorta anche in una coppia di dualismi che conosciamo molto bene e che utilizziamo spesso e che sono altamente pericolosi. Il primo è il rapporto uomo-natura, perché vedete l'uomo fa parte della natura. Nel momento in cui io incomincio a parlare del rapporto tra l'uomo e la natura, è evidente che incomincio a creare questa separazione. Ora, da un punto di vista descrittivo, è legittimo usare l'espressione che si riferisce a questo dualismo, uomo-natura. Però bisogna stare molto attenti perché è molto scivoloso. In effetti, se ci fate caso, quando noi parliamo di uomo-natura, tendiamo a considerare la natura come qualcosa che è fuori di noi. E questo è veramente un punto di partenza veramente sbagliato, ma molto pericoloso vorrei dire. Il secondo è uomo-animale. Pensate cosa significa il dualismo uomo-animale. Noi siamo animali, come possiamo parlare di uomo-animale? Ci serve per circoscrivere un campo in cui ci stanno tutti, dallo scimpanzee, gorilla, fino al coleottero, alla zanzara, alla mosca e così via. Sono tutti animali, mentre invece noi non siamo animali. E così perdiamo anche le percezioni, che noi siamo molto più vicini allo scimpanzee, di quanto la zanzara si avvicina allo scimpanzee. Quindi capite che questa è una distorsione che serve proprio per rinforzare questo umanismo antropocentrico di cui facciamo fatica a liberarci. L'effetto biologico, appunto, dicevo prima, è questo potenziale logico, simbolico e linguistico di cui è dotato il nostro encefalo. Questo potenziale produce, alla fine, se rimanessi chiuso in sé, non farebbe nessun effetto. Invece produce, diciamo, dei risultati notevoli, anzi notevoli, incredibili. Perché noi siamo in grado di vedere le cose che ancora non ci sono. Siamo in grado quindi anche di costruirle. Una centrale elettrica non esiste in natura, no? Quindi deve essere immaginata e progettata, magari per gradi, ma questo sicuramente è qualcosa che viene costruito. Anche la cosa più semplice, una sedia, una panca, sono tutte cose che, diciamo, in qualche modo vengono immaginate prima che esistano e dopodiché vengono realizzate. Ora, perché la tecnologia è così micidiale? Allora, forse possiamo spostare l'attenzione su un concetto semplice che conosciamo tutti. Tutti non sappiamo cos'è l'overshoot day, non è il giorno in cui l'essere umano, genericamente inteso, senza fare distinzioni tra lì col povero, eccetera, comunque consuma tutte le risorse della terra. Questo giorno si sta pericolosamente allontanando dal 31 dicembre e si sta pericolosamente avvicinando al primo gennaio. Attualmente mi pare che sia il 29 luglio, è una stima, però comunque è significativo il fatto che di anno in anno si avvicini sempre di più verso l'inizio dell'anno stesso. Cosa ci viene detto quando si parla di overshoot day? Ci viene detto che in quella data l'essere umano consuma tutte le risorse e poi deve accedere a quelle dell'anno successivo. È vero? E questo è abbastanza strano se ci pensate. Facciamo un esempio mentale molto semplice. Immaginiamo che gli esseri umani consumino soltanto un tipo di prodotto. Le mele? Ecco. Gli esseri umani consumano soltanto mele. Allora, se consumano tutte le mele al 29 luglio, non è possibile che continuino a mangiare mele dell'anno successivo. Questo è chiaro, no? Allora, bisogna spiegarsi il motivo per cui questo accade. Come fanno a continuare a vivere nonostante abbiano finito tutte le risorse della terra? Beh, il discorso si risolve molto facilmente sapendo che la natura in realtà è composta di una specie di, come potremmo dire, di scrigno inattaccabile dalle specie animali che praticamente potremmo chiamare stock e il quale stock genera periodicamente flussi che sono proprio le risorse di cui gli esseri viventi fanno uso per poter alimentarsi per il proprio metabolismo. Allora, perché per milioni di anni la terra è andata avanti senza problemi? Semplicemente perché non esisteva nessuna specie tecnologica. Perché non c'era nessuna specie che riusciva con la tecnologia ad accedere a quello che è lo stock della natura. Noi riusciamo sempre di più a far fuori un patrimonio che non dovrebbe essere toccato per il semplice fatto che è proprio il produttore delle risorse di cui il vivente si nutre. Ecco quindi che si è aperta un'autentica frattura nel metabolismo della vita. Cioè, l'entropia che la terra era riuscita a, come dire, governare, cioè il disordine, l'entropia più o meno possiamo associarla al termine disordine, attraverso la rete trofica in cui, diciamo, i bisogni di un ente avvengono mediante assorbimento di risorse e eccessione di rifiuti, questo ente è messo in una relazione con altri enti per cui i suoi rifiuti sono in qualche modo le risorse di altri enti. In questo modo l'entropia, non è vero che non c'è, c'è sempre stata, la terra ha sempre vissuto un processo di degrado continuo, ma era talmente piccolo, talmente piccolo, praticamente, da rendersi impercettibile. Mentre invece l'essere umano, con queste capacità di intervenire progressivamente in termini sempre più duri sull'ambiente, ha creato una situazione di questo tipo. Notate però, perché si sente parlare molto di capitalismo, beh, questo forse è meglio accennare dopo. Niente, per dire soltanto che la questione, in qualche modo, non si è mai posta nel passato, perché sia l'aspetto antropocentrico, sia gli aspetti relativi alle capacità distruttive dell'essere umano, non sono mai state percepite, cioè, erano manifestazioni dell'essere umano, ma non potevano essere lette dall'essere umano. Oggi è chiaro che viviamo in un momento di cesura del tempo. Avete presente Don Giovanni di Mozart, a un certo punto arriva lo spirito del comandatore, batte alla porta, boom, 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 Don Giovanni, pentiti, quello non si pente e lo porta all'inferno. Questa è la nostra situazione. Cioè, noi oggi viviamo in una situazione in cui la natura batte pesantemente alla nostra porta e se è vero che le elite mondiali ancora sono animate da una visione eroica dell'essere umano, per cui tutto sommato pensano che se si rompe qualche cosa poi è possibile ricostruirlo, perché il concetto di entropia in questa gente non esiste, pensate a una pseudoscienza che è quella dell'economia in cui assolutamente questo concetto non esiste, perché i movimenti di denaro possono essere rivolti sia in un senso che nell'altro ricostruendo delle situazioni danneggiate. Visto che le elite vivono questa condizione, loro è chiaro che tendono, io penso non per cattiva volontà, ma per profonda ignoranza, perché il modello, il paradigma che hanno assimilato è talmente conficcato nel loro encefalo che non riescono assolutamente, al di là di alcune riflessioni obiettive, tipo il fatto che il clima si sta cambiando, ma in qualche modo potrà essere in qualche governato, cosa vuol dire resilienza? Resilienza vuol dire che alle modifiche io mi oppongo in modo tale da resistere ai suoi effetti. Quindi, dicevo, al di là delle elite che comunque sono ancora barbicate il potere e hanno ancora la capacità di consegnarci questo pericoloso viatico, direi che comunque stanno aumentando sempre di più le consapevolezze in termini di studiosi, di movimenti e di ricercatori che stanno segnalando l'assoluto pericolo di proseguire su una strada di questo genere. Quindi il futuro attualmente è veramente impescrutabile. Noi non sappiamo se riusciremo a uscire da questa situazione qui o se invece le situazioni saranno diciamo progressivamente più avanzate in termini di danno. Vorrei soltanto fare alcune riflessioni conclusive. Ecco, dicevo prima, mi è scappato, adesso lo dico adesso, occhio al capitalismo. È un mantra il capitalismo. Bisogna sconfiggere il capitalismo. Il capitalismo è nemico. Ebbene, certo, ogni giorno in cui questo mostro continua a vivere è un problema in più. Ogni giorno. Perché ogni giorno, pensate cosa significa in termini di distruttività dell'ambiente. E non solo dell'ambiente, delle persone e poi anche di tutti i viventi. Però bisogna considerare che il capitalismo è l'ultima stazione di una via crucis che nasce dal momento stesso in cui l'essere umano si approccia di tecnologie. Attenzione, non sto facendo il primitivista. Non sto dicendo che non occorrono tecnologie. Le tecnologie fanno parte della nostra natura. Sono la rappresentazione del nostro essere. Però devono essere governate per Baco. Cioè, bisogna in qualche modo comprendere quelli che sono gli effetti che un'idea può avere e dopodiché bisogna avere la capacità di capire se quella roba può essere implementata oppure se invece non deve essere implementata. E questo può fare soltanto un modello economico che è completamente opposto rispetto a quello nel quale viviamo oggi. Però, ripeto, bisogna stare attenti a non incorrere nell'errore di costruire una società post-capitalistica che abbia le stesse caratteristiche dal punto di vista dei due aspetti che abbiamo parlato prima. E cioè, che sia antropocentrica perché in questo caso continuerebbe a riproporre l'essere umano al di fuori di quello che è il suo contesto naturale. e quindi, in qualche modo, deborderebbe di nuovo riporterebbe di nuovo riporterebbe gli stessi vizi in un ambiente completamente diverso non capitalistico. Quindi, bisogna stare attenti perché c'è un concetto che spesso frulla nella nostra mente che è quello dell'amministratore buono l'amministratore buono della natura l'essere umano deve essere l'amministratore buono della natura questo è un concetto che quando lo dice il Papa gli si può concedere perché lui diciamo così fa riferimento ai libri sacri e quindi è chiaro che siccome Dio gli ha dato agli esseri umani diciamo la gestione del mondo per lui l'essere umano è il buon amministratore o deve essere il buon amministratore della natura ma noi non possiamo essere il buon amministratore della natura perché la natura si amministra da sola noi possiamo soltanto evitare di danneggiarla da questo punto di vista dovremmo anche entrare nella logica che non esistono i comportamenti ecologici dell'essere umano perché ogni comportamento dell'essere umano mangiare un acino d'uva in qualche modo già introduce una perturbazione beh, certo la persona l'indigeno che prende il chico d'uva dall'albero lì è chiaro che non fa nessun danno ma io per venire qui in treno vedevo dei campi immensi di vite e lì ci sono pesticidi e ci sono trasferimenti di risorse ci sono poi i camion che vanno a prendere l'uva poi c'è quello che la trasforma in vino insomma c'è un casino lì dietro dietro quell'acino d'uva c'è un problema serio occhio all'ottimismo se si battesse il capitalismo non ci sarebbe certo il cosiddetto soldo all'avvenire mi sento di poter dire anche se si creasse proprio quella società che io auspico no? perché? ma semplicemente perché i danni che abbiamo fatto ormai sono irreversibili quindi una parte una frazione molto importante della bellezza e della fantasmagoria del mondo è stata cancellata per sempre magari potrà risorgere nell'arco di centinaia di migliaia di anni ma è evidente che i tempi umani sono diversi quindi c'è poco da essere ottimisti bisogna capire che nel caso migliore noi dovremmo vivere una vita molto molto difficile e segnata dall'eredità malefica che tutto questo percorso umano ha consegnato terzo punto occhio all'anti malthusianesimo sappiamo che la cultura di sinistra non è ben allineata col malthusianesimo e qui effettivamente Marx quando polemizzava con Malthus aveva ragione perché lui diceva tu vuoi che i poveri facciano pochi figli mentre i ricchi possono fare quanto ne vogliono quindi in quel contesto aveva ragione essere anti-malthusiani oggi però ci rendiamo conto che se siamo diciamo così materialisti e se sappiamo che tutti gli animali e anche noi che siamo animali hanno come dire un limite nel numero dei membri che possono essere ospitati in una nicchia ecologica ci rendiamo conto che è evidente che anche noi dovremmo in qualche modo in prospettiva prendere in esame questo aspetto ovviamente con delle politiche demografiche non certo impedendo ai migranti di venire in Italia visto che abbiamo con tutto il terzo mondo un infinito debito che dobbiamo estinguere vorrei chiudere con un'ulteriore attenzione insomma occhio al movimentismo perché certo bisogna muoversi bisogna trovare bisogna trovare delle delle occasioni per creare dei collettivi come si diceva anche ieri che incominciano a mettere insieme delle pratiche di resistenza bisogna incominciare a unificarsi per come dire per offrire diciamo dei contropoteri alle liti che ancora sono animate dai principi che dicevo prima però è evidente che noi viviamo in un mondo complesso che deve essere smontato delicatamente pezzo per pezzo e attenzione che togliere un pezzettino togliere un altro significa fare un'operazione delicatissima delicatissima perché perché è chiaro che nel momento in cui ci sono delle collettività che vivono di certe attività beh e che nel momento in cui queste attività vengono messe in discussione bisogna avere capacità politiche di offrire delle alternative e bisogna avere la capacità politica di avere delle visioni di ricostruzione della società secondo dei criteri diversi poi pian piano certo pian piano questi diciamo questi strumenti di governo che abbiamo messo in piedi per come dire per riportare a situazioni di normalità sempre che ci si riesca e tornare quindi a una condizione di vivibilità di dignità per tutti gli esseri viventi nel momento in cui si facesse questo a quel punto anche le strutture istituzionali costruite per fare questo accompagnamento potrebbero certamente essere eliminate perché a quel punto non ce ne sarebbe più bisogno però è evidente che nel momento in cui si fa riferimento soltanto al movimento contro beh noi manchiamo di qualcosa perché un mondo alternativo gli altri mondi possibili che vogliamo costruire devono essere costruiti devono essere costruiti costruirli significa organizzazione probabilmente anche soggetti politici adeguati grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti